Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio appena pubblicato dal CISAM dal titolo Il Lupo di Gubbio, origini, tradizione e ricezione di una storia francescana, a cura di Alberto Luongo e Antonio Montefusco, che sono i nostri graditi ospiti di questa videopresentazione e ai quali io, come mia abitudine, lascio subito la parola per non rubare altro tempo e ascoltare cosa mi raccontano di questo lupo di Gubbio. Quindi prego a voi. Eccoci, allora comincio io, giusto Alberto? Sì, sì. Eccomi. Allora, questo volume che si intitola Il Lupo di Gubbio, origini, tradizione e ricezione di una storia francescana, è un volume che si compone di quattro capitoli e di una premessa, a suo modo diciamo così corposa, che tenta un po' di mettere qualche puntello insomma alla ricerca che abbiamo condotto insieme e pubblicato per i tipi di CISAM. La ricerca si incentra appunto sulla storia francescana, che forse come diciamo, diciamo così, è la storia francescana più nota, diciamo quella dell'incontro tra San Francesco e il lupo a Gubbio, no? Una storia, diciamo così, di un ammanzimento e di una pacificazione, diciamo. Adesso entreremo più nel dettaglio di queste due già, diciamo, visioni di questa storia che abbiamo cercato un po' di smontare e di cercare di comprendere. Sullo sfondo c'era una ricerca, diciamo, che era l'impianto sicuramente filologico, io sono uno storico della letteratura, sostanzialmente faccio filologia dei testi medievali, ma ovviamente c'è un contesto, un contesto diciamo così più ampio, anche di grande rinnovamento degli studi, diciamo così quelli che si chiamano gli animal studies, forse ne parlà un cenno anche Alberto tra un po'. In particolare c'è questo diciamo macro tema del rapporto tra l'uomo e il lupo che è un tema, diciamo, che si inserisce in un atteggiamento, no? Che è completamente cambiato negli ultimi 30-40 anni, no? Da quando appunto è stata eliminata questa licenza di uccidere il lupo, diciamo, fino agli anni 70 si poteva eliminare fisicamente, diciamo, questi animali, no? E poi dagli anni 70 poi invece è completamente cambiato l'atteggiamento verso questo animale, questo antenato diciamo nobile del cane e questo diciamo nasce in un contesto ovviamente di sensibilità verso eh il mondo naturale, verso eh gli animali che ha avuto anche delle conseguenze anche negli negli studi, no? Eh con dei libri anche molto molto importanti, in particolare ne ricordiamo alcuni nella premessa tra cui quello di eh Gerardo Ortalli che è appunto grande storico del medioevo che per Enaudi pubblicò proprio in quegli anni, no? Un un libro dopo un lungo saggio proprio diciamo sul lupo come ehm elemento chiave anche della ehm della storia eh diciamo di e come l'uomo si collocava nel mondo nel mondo della natura e eh nella città diciamo nel all'interno del dell'epoca eh medievale ma credo che su questo interverrà ehm Alberto più eh specificamente perché un po' sullo sfondo diciamo di uno dei saggi no? Del del nostro libro che è quello eh fatto da Riccardo Rao che diciamo ai eh proprio ai lupi nel medioevo ha dedicato un importante eh libro ehm all'interno diciamo di questo macro tema quindi eh si inserisce questa storia di eh San Francesco il lupo che eh ovviamente è no eh l'emergenza di eh come dire di questo nuovo atteggiamento che è il santo di assisi no? All'inizio del eh tredicesimo secolo no? Ehm ha eh e costruisce nei confronti del eh del mondo naturale d'accordo? Eh è un grande rinnovamento il fatto che diciamo così Francesco abbia questo questo rapporto con il mondo naturale e che questo rapporto sia effettivamente innovativo in senso stretto cioè che sia diciamo una rottura rispetto alla storia precedente in realtà noi lo diamo per scontato diciamo come ehm elemento ehm no? Quasi un luogo comune eh in verità è una scoperta storiografica tutto sommato recente diciamo tra gli anni sessanta e gli anni settanta da una parte diciamo i grandi storici americani un grande storico Lee White scrisse un articolo molto molto famoso eh su tra l'altro non su una rivista storica in cui appunto eh sosteneva che il nuovo atteggiamento che San Francesco ha nei confronti del creato è un atteggiamento in rottura con la storia ecclesiastica con la storia diciamo eh cristiana e alla fine degli anni settanta eh eh Papa Giovanni Paolo II ehm fa un'enciclica abbastanza importante no? In cui eh no ehm propone e eh afferma diciamo eh San Francesco come patrono dell'ecologia no? Eh è tutto all'interno di quel grande cambiamento che dicevamo dicevamo prima. Ebbene all'interno diciamo di questo quadro eh la storia del di San Francesco e del lupo aveva due diciamo eh novità due curiosità che eh ci hanno attratto eh fortemente da una parte c'è un elemento no? Importante ehm il lupo non è un animale pacifico o almeno non lo è in tutta una lunghissima tradizione simbolica dei bestiari delle narrazioni eccetera è un animale pericoloso diciamo no? Quindi come dire all'interno di questo rapporto con il creato no? Che riguarda la capacità di parlare agli uccelli ci sono anche degli episodi di San Francesco che parla con i pesci eccetera eccetera il lupo ha questa peculiarità cioè il fatto appunto di essere anche un animale no? Di per sé nocivo quindi in qualche maniera ehm una specificità diciamo all'interno del del mondo del mondo animale. Dall'altro elemento da un da un punto di vista più strettamente filologico testuale quello che era diciamo il primo interesse da cui poi è partita eh questa ricerca e che mi ha portato poi alla al dialogo eh con ehm con Alberto e che all'interno diciamo dei testi francescani eh la storia di eh San Francesco e il lupo ha almeno due peculiarità. La prima è una storia stabile cioè non cambia ha una sola versione d'accordo? Ehm la seconda è una storia molto tardiva cioè appare nella sua forma scritta in un periodo molto tardo rispetto a quando è vissuto San Francesco. Dettaglio questi elementi per diciamo introdurre anche i risultati che poi ho riportato nel nel mio capitale. Allora il primo elemento hm hm diciamo la stabilità cioè il fatto che come dire ehm la storia del lupo ha una sola versione. Ha una versione in due lingue eh differenti. Il latino è in volgane eh la versione per cui noi la conosciamo moltissimo è la sua versione in italiano perché è trasmessa dal libro francescano che noi conosciamo di più cioè i Fioretti di San Francesco che in Toscano siamo alla fine del trecento quando vengono fatti eccetera però appunto vedete siamo alla fine del trecento. I Fioretti di San Francesco sono una traduzione in realtà un volgarizzamento selettivo di un testo latino che si chiamano Actus Beati Francesci et Sociorum Eius cioè Atti di San Francesco e dei suoi compagni che è stato scritto e redatto intorno agli anni trenta del trecento. Siamo quindi un secolo dopo diciamo quasi un secolo dopo eh la morte di San Francesco nel 1226. Non abbiamo attestazioni della storia per come la conosciamo precedente a questa d'accordo? Quindi è una storia tardiva eh nonostante sia famosissima è molto tardi. Dall'altra parte le le storie francescane sono delle storie diciamo così che circolano in versioni tantissime versioni concorrenti sia perché San Francesco è stato uno dei santi più famosi diciamo su cui ovviamente sono nate tantissime leggende storie concorrenti eccetera eccetera sia per la storia interna dell'ordine religioso che è nato da da San Francesco e il suo movimento religioso poi ordine religioso eh che diciamo è una storia molto tormentata in cui ci sono state no concorrenze di interpretazioni rispetto alla regola rispetto alla vita eccetera no in cui addirittura alla metà degli anni sessanta un ministro generale importantissimo come Buonaventura da Bagnoreggio ordina che tutte le narrazioni precedenti venissero distrutte ora è un dato diciamo così abbastanza non totalmente unico ma abbastanza unico diciamo così di attenzione non censura ma di autocensura da parte di un ordine no rispetto a quelle narrazioni concorrenti questo elemento ha prodotto il fatto che su tante storie noi abbiamo appunto un conflitto di narrazioni come si direbbe oggi con un termine molto molto alla moda questa cosa con il lupo non esiste d'accordo diciamo invece esiste solo questa versione che è una versione tarda eccetera allora lo sforzo che io ho tentato di fare era la curiosità ehm che avevo e diciamo che che partiva che e di cui qui ho dato diciamo alcuni risultati ehm ne sto costruendo poi un ulteriore sviluppo perché è una storia appassionante che eh diciamo si allarga anche a tanti tipi di testi in realtà mi ha permesso di ehm capire lo studio diciamo sulle fonti di questa storia mi ha permesso in realtà di datare un pochettino più precisamente eh forse non so se lo sforzo valeva la candela eh perché in realtà sono riuscito diciamo così a discendere un po' diciamo ad arrivare agli anni sessanta settanta del duecento eh tramite cosa lavorando su sostanzialmente appunto tutte queste storie concorrenti nel all'interno dell'ordine francescano in particolare su quella che si chiama memoria non ufficiale cioè quella legata ai compagni di Francesco in particolare frate Leone no una parte di questa memoria di frate Leone che vive per lungo tempo dopo la morte di San Francesco San Francesco muore nel 1226 frate Leone muore diciamo così all'incirca intorno al 1270 quindi gli sopravvive moltissimo ed è lì diciamo continuamente a raccogliere e a rifornire no questi frati che vanno a trovarlo ma anche diciamo le varie iniziative dell'ordine di storie concorrenti e ho individuato la mia ipotesi ho individuato intorno appunto queste memorie del Leone un po' tardivo appunto la nascita diciamo così di alcuni elementi che poi andranno a essere ricomposti all'interno della storia diciamo di San Francesco il buco in particolare una riflessione diciamo così sulla presenza di questo animale pericoloso che nelle vite primitive non c'è nelle vite primitive Francesco parla soprattutto con animali pacifici d'accordo con animali non dannosi addirittura ci sono narrazioni concorrenti in cui lui di fronte a un ad animali che hanno ucciso altri animali a fa delle maledizioni contro questi animali violenti d'accordo quindi come dire è veramente qualcosa che nasce si stratifica diciamo più tardivamente un altro elemento che mi sembrava molto interessante dal punto di vista diciamo così della storia di questo testo era che appunto in realtà la localizzazione a Gubbio anche questa è un l'incontro tra San Francesco e il lupo avviene a Gubbio avviene a Gubbio in modalità tra l'altro molto particolare diciamo così no in una posizione precisa all'interno e al di fuori della città eccetera ora questa localizzazione a Gubbio appunto anche essa si può essenzialmente datare nella stessa cronologia cioè siamo sempre a cavallo tra la fine del duecento e l'inizio del trecento la mia idea dai testi che ho ritrovato è che questa diciamo questo incontro nasce si definisce all'interno diciamo di campagna di predicazione dei frati probabilmente appunto in questo circuito di città quindi sono tutti elementi ricostruiti trovando anche cicli di predicazione manoscritti ehm eccetera ora ripeto tutto ciò sembra diciamo spostare soltanto di trenta cinquant'anni no la la storia perciò era per me molto importante ed è stato iniziativa poi diciamo di di Alberto che è anche diciamo un un amico di antica data di studi eh comunali e che è un il maggiore esperto tra le altre cose diciamo di storia di Gubbio eh nel trecento e anche eh e anche precedentemente eh mi sembrava interessante diciamo così discutere con lui e eh avanzare anche sul perché di questa localizzazione eugubbina perché l'idea diciamo che questo tipo di eh di storia nascesse in un contesto di predicazione lo radicava no? In un contesto anche cittadino preciso cioè che i predicatori no? Scelgano non dico che inventino una storia ma comunque compongano no? Precisino una storia con tutta una serie di dettagli è probabilmente legato ad un contesto preciso. Accanto a questo diciamo incontro poi con Alberto che eh specificherà ulteriormente quindi il perché diciamo di questa collocazione eugubbina c'era diciamo così da affrontare anche il tema eh vado eh velocemente anche se è estremamente eh appassionante non ho controllato da quanto tempo eh sto parlando sì termino in breve perché non voglio togliere diciamo tempo ehm ad Alberto c'era il tema diciamo così della iconografia d'accordo? Cioè della rappresentazione ehm in immagini di questo episodio. Ebbene anche qui non mi soffermo molto perché lo sfondo è lo stesso. Questa rappresentazione di questa storia che noi diamo per scontato che sia una storia autentica, antica, francescana per eccellenza, in realtà la prima attestazione è coincidente con gli anni dei Fioretti. Siamo alla alla fine del Trecento, non siamo questa volta in Umbria, siamo in Toscana, a Pienza ehm nella chiesa di San Francesco che è uno dei pochi resti medievali poi della della città di Pienza. all'interno di questa chiesa di San Francesco la famiglia Lamberti probabilmente che sono diciamo gli eredi del dei Lamberti eh della della Commedia probabilmente aveva commissionato un ciclo di affreschi che è molto interessante non sono rimasti tutti eh perché Maria Alessandra Bilotta altra collega ehm ehm amica comune ehm ci ha eh fatto vedere sulla base tra l'altro di ricerche che aveva eh patrocinato anche precedentemente la compianta eh Chiara Frugoni che questo ciclo di affreschi di Pienza realizzato da pittori senesi alla fine del Trecento è un ciclo molto originale cioè c'ha degli elementi diciamo così ricercati che non erano no presenti all'interno degli altri cicli francescani precedenti fortemente influenzati come si può capire bene da Giotto. Tra gli elementi di originalità c'è questa prima rappresentazione dell'incontro tra San Francesco e il Lupo. Questa prima rappresentazione quindi che nasce in ambito toscano probabilmente nasce sulla scorta di eh appunto anche del successo forse dei Fioretti eh eh o comunque di di questi testi diciamo ehm non ufficiali è una rappresentazione molto precisa perché ci ribadisce anche se tardivamente l'elemento in qualche maniera cittadino politico diciamo della 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 rappresentazione. Se voi vedete la fresco di Pienza di San Francesco che è riprodotto nella nostra copertina avete diciamo una collocazione al di fuori della città di Gubbio che si intravede molto bene si intravedono le città e si vede diciamo San Francesco che fa proprio da intermediario eh tra il Lupo che gli dà la mano e degli atti funzionari diciamo così della eh della città. Maria Alessandra Bilotta dimostra due cose. Uno che questo tipo di rappresentazione probabilmente era una rappresentazione che nasce diciamo così influenzata da rappresentazioni precedenti ma che vengono attenzione non dal mondo degli affreschi dell'arte delle chiese ma probabilmente dal mondo delle miniature. In particolare una serie di manoscritti in cui venivano illustrate la leggenda major cioè la la biografia ufficiale di San Francesco. Ce n'è uno che è conservato a Roma e che è molto importante. L'altro elemento che dice eh che sostiene Maria Alessandra è molto importante è che questo ciclo di Pienza quindi anche quello del Lupo influenzerà profondamente o comunque ha delle diciamo così ehm repertori iconografici comuni con quelli del quattrocento tra cui in particolare quello molto importante di Benozzo Cozzoli a San Francesco a Montefalco. Sì allora eh prendo la parola io prima Antonio appunto si chiedeva se se valsa la pena lo sforzo appunto di datazione del del ridattazione diciamo di questo nucleo testuale dal mio punto di vista ovviamente sicuramente sì nel senso che appunto io ho sentito per la prima volta Antonio parlare di queste cose ormai quattro anni fa in un seminario che lui ha tenuto a Venezia nell'aprile del 2018 non ricordo male ehm appunto sentendo questa retrodattazione eh mi si è aperto diciamo un mondo nel senso che venendo dai miei studi sulla gubbio trecentesca ho subito insomma mi sono subito chiesto mh se appunto indagando la documentazione disponibile per la gubbio degli ultimi decenni del 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 tredicesimo secolo quindi del duecento ehm ci potessero essere in qualche modo dei collegamenti con quanto eh Antonio stava appunto eh scoprendo ed elaborando dal punto di vista invece delle fonti delle fonti testuali era già un po' avevo diciamo nei miei progetti di studiare anche la gubbio del tardo duecento ma questa questa cosa mi ha dato una chiave di lettura interessante per poter approcciare una documentazione non così abbondante tra l'altro ma eh interessante tanto più che eh appunto gli la tradizione sugli animal studies che richiamava prima eh Antonio eh già aveva individuato in fatti specie gli studi ovviamente sia eh sull'immaginario dei lupi ovviamente nelle nelle fonti e nella nella storia anche poi gli animal studies hanno tutto un filone che invece si occupa proprio della storia degli animali veri quindi non simbolici quindi anche interessante capire le interazioni tra queste due dimensioni ma in questo caso insomma sia già Gerardo Ortalli più di recente appunto Riccardo Rao eh anticipato in maniera preziosa al nostro volume ma insomma in generale a tutti coloro che avevano provato a interpretare a studiare queste o questa vicenda del lupo di gruppo avevano un po' evidenziato una sorta di anomalia cioè questa questa vicenda del lupo fa fatica a entrare in quelli che sono a entrare totalmente in quelli che sono gli schemi diffusi legati appunto alle narrazioni e alle narrazioni sui lu ehm cito solo due fra le tante possibili eh tradizioni che appunto possono essere eh ricondotte questa eccezionalità una è quella che Riccardo Rao nel nel primo saggio appunto di questo di questo di questo volume riprende quindi eh la questione del rapporto tra i santi e i lupi e la faccio ovviamente molto breve ehm Riccardo Rao sostanzialmente certifica e eh la prova del lupo come la chiama lui è eh diventa insomma soprattutto nei secoli centrali del medioevo ehm diventa eh una sorta di tappa obbligata per quanto riguarda molte a geografie soprattutto dell'Italia centrale e quindi di aria appominica eh tanti ordini religiosi cominciano ad elaborare eh a geografie legate appunto a santi ovviamente ma che appunto tra le loro gesta hanno anche quella di ammansire un lupo ehm ecco se da questo punto di vista la vicenda di Francesco può sembrare eh appunto una delle tante ecco in realtà esiste esiste ehm una certa eccezionalità esistono delle differenze anche importanti eh in particolare una ha attirato la mia attenzione normalmente questi santi appunto diversi da San Francesco ehm trovano appunto a che fare con lupi minacciano o animali eh di proprietà delle persone i greggi insomma le bestie oppure da un certo punto da un certo punto in poi diventano lupi eh antropofagi cioè che che minacciano direttamente gli uomini come quello tra l'altro di San Francesco ecco l'intervento del santo eh spesso appunto è legato all'ammansimento del lupo mh a volte appunto questo lupo si trasforma in cane quindi ha quasi una eh mutazione di specie eh cambia proprio completamente il suo eh comportamento nei confronti della società sta minacciando non è più minaccioso normalmente la questione finisce qui invece nel caso del lupo di Francesco si va oltre nel senso che il lupo di Francesco non solo viene ammansito ma diventa anche in qualche modo parte della comunità della città di Gubbio si dice proprio che il lupo diventa familiare agli abitanti di Gubbio eh che lo nutrono eh lo tengono in vita fino alla morte il lupo muore dentro questi legami sociali e la i cittadini di Gubbio piangono la sua morte quando appunto il lupo eh passa miglior vita diciamo così ecco questo è un elemento molto mh originale che effettivamente eh nonostante appunto non siano mancate interpretazioni anche molto interessante molto acute punto di vista antropologico dal punto di vista della storia ambientale ma ecco tutti gli storici che si sono occupati di questa vicenda hanno sempre detto sì però ci sfugge comunque il fine ultimo di di questa cosa non tutti gli aspetti sono in qualche modo chiari e compatibili l'altro grande filone è quello dei lupi della metafora del lupo ehm che sta a rappresentare diciamo i magnati quindi tutti quei milites quei cavalieri che con l'affermazione dei comuni di popolo diventano i nemici appunto della comunità politica e vengono paragonati a lupi famelici rapaci che minacciano appunto la eh la comunità ecco guarda caso da i decenni della seconda metà del duecento a Gubbio sono effettivamente eh gli anni dell'affermazione del comune di popolo come in tante altre città dell'Italia centrosettentrionale tra l'altro mh e appunto andando a sviscerare un po' questo mh questo contesto di affermazione di una nuova politica e alcune alcuni collegamenti sono risaltati abbastanza abbastanza evidenti insomma sono risultati abbastanza evidenti ehm ora intanto c'è un cambiamento di politica abbastanza netto dopo eh il mille duecentocinquante eh dopo appunto eh la la fine del del progetto di di Federico II che muore appunto nel mille duecentocinquanta Gubbio fino a quel momento in chiave antiperugina era sempre stata avversaria appunto eh di Perugia e quindi mh aveva una tendenza a favorire più che altro gli imperatori che non i papi quando appunto si 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 trovavano a doversi scontrare in maniera un pochino eh no più forte rispetto rispetto al al solito con appunto la morte di Federico II e le alterne vicende del del della parte imperiale gli anni successivi Gubbio si ritrova un pochissimo tempo alla merced di Perugia che nella sua fase mh ascendente diciamo di espansione territoriale più importante e quindi per sopravvivere deve collegarsi a papato e lo deve fare in maniera molto forte proprio per neutralizzare qualsiasi tentativo di Perugia che appunto avrebbe potuto approfittare di questa ostilità alla causa della chiesa per eh interferire nella politica eugubina. Ecco in questo contesto appunto in cui bisogna cambiare rotta politica che è appunto è un contesto che dura in grosso modo a partire dagli anni sessanta fino eh agli anni eh settanta ottanta questa cosa matura ecco in questo contesto sono nuovi gruppi sociali ad emergere penso soprattutto alle arti ai mercanti insomma a quei gruppi che tradizionalmente anche altrove fanno parte del comune di Perugio ma ci sono anche altre due componenti interessanti da una parte i milites cioè i cavalieri e appunto altrove in maniera ovviamente complessa ci sono casate di milites che parteggiano per il popolo altre invece no e qua a Gubbio emergono alcune famiglie che poi saranno le famiglie che avrebbero protetto il comune popolare trecentesco ai Gabrielli della Serra e della Branca eh i Guelfoni mh emergono già in questi anni del del duecento in questi decenni del duecento come ehm vicine al popolo quindi a questo nuovo progetto politico ehm interessante notare che queste famiglie vengono comunque nonostante la loro vicinanza politica appunto al popolo identificate poi come famiglie magnatizie quindi poi escluse dalle istituzioni comunali nonostante appunto la loro vicinanza eh la loro il loro ruolo di protezione di queste istanze popolari è una cosa che già avevo evidenziato per il trecento ma che in qualche modo si conferma nella sua fase genetica nella seconda metà del duecento è un terzo elemento che entra in questa in questo discorso dell'affermazione del popolo è ovviamente anzi adesso dirò non tanto ovviamente ma insomma è la eh lo sviluppo dell'ordine dei minori cioè dell'ordine francescano che proprio nella seconda metà del duecento a Gubbio diventa centrale eh innanzitutto dal punto di vista religioso poi appunto tutta probabilità anche dal punto di vista politico da questo in questo senso diciamo i i gli indizi sono sono di meno ma sono sono comunque abbastanza chiari ehm è nella seconda metà del duecento che viene costruita l'attuale chiesa di San Francesco che noi possiamo vedere a Gubbio molto più grande rispetto all'originale insediamento di Santa Maria della Vicina che ancora oggi comunque si può vedere eh fuori appunto dalle mura quindi si sposta dentro le mura non solo ma molti degli esponenti di quelle famiglie magnetizie otettrici del popolo di cui vi ho parlato eh dimostrano segni di devozione francescana abbastanza abbastanza chiari appunto individuabili in questa seconda metà del duecento ma che poi si confermano nel trecento nel trecento il legame tra il comune e gli ordini mendicanti è abbastanza insomma chiarato abbiamo abbiamo numerose testimonianze ne dico solo una i i funerale dei magistrati morti in servizio veniva per esempio celebrato nella chiesa di San Francesco quindi già questo ha una componente simbolica importante ecco eh appunto eh quindi con presenza di questi tre elementi il popolo Magnati Milites e eh l'ordine francescano l'ordine francescano è appunto si trova dover dal canto suo eh agire politicamente mh per tentare di emergere in un contesto che fino a quel momento era stato eh dominato eh alle dalle istituzioni eh ecclesiastiche non mendicanti diciamo così quindi in particolare la diocesi e il capitolo cattedrale nonché altri alcuni monasteri più o meno legati appunto al a questi a questi altri due poteri eh che tra l'altro avevano espresso eh parte delle famiglie ehm milites delle famiglie signorili del territorio che spesso erano collegate appunto a questi a queste istituzioni religiose non avevano una dimensione autonoma forte questo per dare l'idea appunto del della pesantezza del ruolo politico di queste istituzioni ecclesiastiche ecco che l'ordine dei minori può in qualche modo trovare nel popolo una sponda per tentare di eh scardinare di avere un sostegno politico che eh consentisse appunto all'ordine di affermarsi e quindi ecco che in questo contesto eh si affermano eh i primi vescovi eh vescovi francescani a Gubbio eh prima dicevo non ovviamente perché appunto la ricerca ha dimostrato che hm anche nell'Umbria terra insomma francescana per eccellenza non fosse affatto scontato che all'interno delle città umbre eh si preferisse per forza un vescovo che proveniva appunto ehm dall'ordine dei minori ma anche questo era legato diciamo a determinati contesti politici a determinati appunto vicende che interessavano di volta in volta il singolo contesto cittadino ehm a Gubbio è interessante perché in particolare un'elezione quella di benvenuto da Orvieto eh siamo alla metà degli anni settanta quindi in cui in un momento in cui ormai la politica popolare di cui parlavo prima si è affermata decisamente ecco nel momento in cui c'è da eleggere questo 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 nuovo vescovo in realtà c'è un tentativo prima di un canonico perugino quindi vediamo ancora la mano di Perugia che tenta di entrare dentro le istituzioni ugobine di un canonico di un di un esponente del capitolo della cattedrale di Gubbio di intervenire ma alla fine la comunità riesce a imporre benvenuto da Orvieto quindi un vescovo francescano questo ci dà l'idea anche se appunto in maniera molto eh puntuale perché le fonti sono purtroppo quelle che sono e non ci raccontano tutto ma di un certo tipo di contesto benvenuto da Orvieto che tra l'altro a un certo punto eh finirà per cedere al comune tutte le giurisdizioni temporali eh la diocesi quindi i castelli eh di vista appunto della giurisdizione secolare diremmo eh del vescovo li cede al comune di Gubbio e il comune di Gubbio in cambio gli fornisce però vita natural durante diritti economici cioè gli garantisce la possibilità di poter continuare fino alla fine della sua vita di eh recepire di ricevere eh appunto i tributi legati appunto alla sua signoria condiaria economica non a quella politica c'è una distinzione interessante eh per concludere dunque eh si può benissimo come dire mh individuare alcune alcune cose ci portano alla vicenda del lupo appunto dicevo in molte città i lupi sono i magnati sono coloro che il comune deve escludere dal proprio dal proprio orizzonte istituzionale qua Gubbio in realtà lo abbiamo visto queste famiglie magnatizie quindi caratterizzate da uno stile di vita mh legato alla guerra legato ad attività appunto militari a ampie proprietà signorili ecco queste famiglie vengono in qualche modo attrate dalla parte del popolo vengono direbbe da dire quasi addomesticate sulle suggestioni appunto del 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 racconto i lupi in qualche modo se intesi come magnati sono addomesticati e fanno parte appunto della comunità sociale e politica che porta avanti un determinato progetto una determinata idea di comune ci sono anche altre cose per esempio il lupo viene dal contado minaccia la città dal contado e abbiamo visto Ruggia minaccia dopo il 1250 la città di Gubbio tramite un'azione di pressione sul contado addirittura riesce a farselo concedere dal papa per cinque anni ma esistono anche e esistono anche le signorie di appunto territoriali che in qualche modo Gubbio tenta di prendere dalla sua parte in questa in questa sorta di lotta contro le istituzioni precedenti contro i gruppi sociali precedenti e le istituzioni ecclesiastiche precedenti e poi c'è questo c'è questo discorso del vescovo e vede appunto il suo potere temporale ma mantiene il suo suo potere economico insomma ci sono tanti possibili candidati al ruolo di questo lupo che viene addomesticato al di là delle suggestioni ognuno poi può vedere appunto quello lo che vuole quello che secondo me è da dire mettere al centro del discorso e che questo ambiente Gubbino di fine 200 primo 300 è un ambiente che si mostra molto compatibile a un'elaborazione eh simile a quella che Antonio eh porta avanti quindi ad un discorso politico che veda nella storia del lupo tutta una serie di riferimenti che agli Gubbini di quel periodo eh dicevano qualcosa e quindi dal punto di vista della predicazione poteva sicuramente essere un contesto politico efficace e quindi non è secondo me peregrino ipotizzare che l'ambientazione Gubbina derivi proprio da queste specificità del contesto Gubbino appunto erano ideali per accogliere una storia di questo tipo a una storia ovviamente poi complessa che che Antonio mostra bene nel 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 libro ma che ha come punto d'arrivo questa ambientazione i motivi che ho tentato in maniera molto sintetica di di spiegare ecco successivamente la tradizione avrebbe un po' perso diciamo il suo carattere locale le attestazioni le prime attestazioni del del lupo di Gubbio a Gubbio sono molto più tardi di questo periodo fra due e trecento eh questo perché poi molto probabilmente è la dimensione francescana che prende il sopravvento rispetto alla dimensione locale e quindi poi eh come dire la la questione diventa quelle cose che appunto facevano sì che Gubbio fosse un ambiente particolarmente ricettivo passano diventano eh il passato appunto e quindi Gubbio poi entra nella tradizione francescana in maniera diversa quando appunto la storia locale ha lasciato il posto alla storia universale diciamo così del del francescanesimo ecco eh questo in estrema sintesi ma nel libro si possono trovare ovviamente tutti i dettagli e tutti i documenti su cui eh queste affermazioni vengono vengono proposte insomma grazie beh quindi a questo punto bisogna ricordare il titolo in modo tale che la gente lo possa acquistare perché nell'immaginario collettivo questa storia di San Francesco il lupo è talmente nota è talmente conosciuta eh che però se uno ne scopre la genesi in qualche modo può essere come dire vissuta più appieno o compresa meglio ecco diciamo così perché poi questa è la cosa importante quindi io vi dico che questo saggio si intitola il lupo di Gubbio origini tradizione e ricezione di una storia francescana e a cura di Alberto Luongo e Antonio Montefusco che abbiamo avuto il grande piacere di avere i nostri ospiti appena pubblicato dal CISAM e quindi bisogna assolutamente correre librerie ad acquistarlo perché così potrete scoprire la verità sul lupo la verità sì certo è un tributo una proposta io vi ringrazio tantissimo ringraziamo per aver partecipato ricordo a tutti i nostri utenti di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedivale.org e arrivederci alla prossima video presentazione grazie ancora grazie 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 a tutti